Sono Sofia Santi, la CEO di One Bra. L'80% delle donne presenta un'assimmetria dei seni, chi in forma più grave e chi in forma più lieve. Il 16% di loro ha un'assimmetria a causa di interventi di rimozione di tumore al seno. Metà di loro non vuole ulteriori interventi chirurgici e predilige l'uso di protesi mammari esterne che però hanno varie problematiche, danno un senso di discomfort, un'eccessiva sudorazione, sono realizzate di materiali poco sostenibili. La nostra soluzione sono delle coppe personalizzate che possono essere prodotte tramite la scansione 3D del proprio seno, tramite un dispositivo cellulare. La scansione viene inviata a noi di One Bra che la elaboriamo con dei software di modellazione per poi mandarli in stampa con tecnologia 3D per realizzare le nostre coppe personalizzate che vengono inserite all'interno delle tasche del reggiseno scelto poi dalla cliente. Queste coppe personalizzate sono protette da un brevetto nazionale che ne protegge sia il design, sia i parametri di realizzazione, sia il rivestimento. Prevediamo quindi di proporre dei prodotti quali la coppe personalizzata inserita in modelli basici di reggiseni e gli anni successivi ulteriori modelli per la moda mare e per la moda sportiva. Abbiamo anche un servizio di community a sostegno sia psicologico sia informativo della donna. In particolar modo la nostra community prevede differenti sezioni, una sezione di testimonianze di donne, una sezione in cui vengono intervistate degli esperti del settore, una sezione di divulgazione scientifica ed una sezione eventi. Una parte di questi sono sezioni a pagamento mentre le altre fruibili liberamente. Ma come la cliente può venire in possesso del nostro prodotto? Visitando il sito onebra.it in cui sono specificate tutte le istruzioni per scaricare l'applicazione di scansione, effettuare la scansione in totale autonomia a casa, inviarci la scansione che noi elaboriamo e inseriamo poi la coppa realizzata all'interno del reggiseno scelto e lo inviamo direttamente a casa della cliente. Garantiamo un servizio soddisfatti o rimborsati, una reciclabilità dei prodotti e ovviamente un prodotto completamente tailor made. Attualmente in Italia siamo 30 milioni di donne, di queste l'80% ha una simmetria generica dei seni che corrisponde a 24 milioni mentre un 16% di loro corrisponde a 3.8 milioni di donne con una simmetria post intervento che vorremmo raggiungere completamente con il nostro prodotto. I nostri competitors attualmente non garantiscono tutti i requisiti che Uombra garantisce con il prodotto della coppa customizzata grazie a un fit ad hoc, traspirabilità del materiale ed una riciclabilità di prodotto ad un prezzo assolutamente democratico di 79 euro. Prevediamo in 5 anni di produrre 30.600 pezzi venduti ad un prezzo retail medio del prodotto di 126 euro per un fatturato di 4 milioni. E soprattutto prevediamo di raggiungere una popolazione di 20 mila persone che seguiranno la nostra community. Ed è proprio grazie alla nostra community, ai nostri social e alle collaborazioni con le Andos di tutta Italia che vorremmo raggiungere appunto queste cifre. Oltre alla collaborazione con due importanti partner, la Proma Facility di Rovereto e Spiman di Carpi. Da una prima pre-money evaluation, Uombra vale un milione di euro grazie a un team di esperti del settore, un business model molto flessibile e l'assenza di competitors in Italia. Prevediamo di ottenere una certificazione come dispositivo medico entro giugno e di lanciare quindi poi il nostro prodotto sul mercato per poi lanciare un'applicazione fruibile su tutti i dispositivi cellulari, nuovi contenuti di community, l'acquisto di nuove stampanti e nuove campagne di marketing che ci aiuteranno poi per il lancio dei nuovi prodotti quali per la moda mare e il reggiseno sportivo per appunto poi espandere il mercato italiano. Chiediamo quindi un investimento di 200 mila euro divisi in 86 mila euro per i costi di produzione e logistica, 36 mila euro per i costi di ricerca e sviluppo e sviluppo dell'applicazione e 78 mila per i costi di marketing. Siamo un team eterogeneo di ragazzi, io insieme a Silvia Chiera ci occupiamo della parte di ricerca e sviluppo, Giulia Faro per la parte commerciale e Danilo Tommasoni per la parte informatica. Grazie, vi lascio i contatti. Grazie.